Primi calci Buonasera a tutti quanti, benvenuti a Primi calci, la trasmissione di Radio Milan Inter dedicata al calcio giovanile e al calcio non professionistico Allora come avevamo già annunciato nelle puntate scorse, oggi è una puntata davvero particolare perché invece che parlare di ragazze di calcio giovanile, parliamo di calcio femminile che è un calcio non professionistico, quindi va perfettamente a segno qui a Primi calci Allora subito a presentare gli ospiti di quest'oggi che è la società di calcio femminile Bareggio San Martino abbiamo l'allenatore della prima squadra, Matteo Colombo, ciao, buongiorno a tutti Poi abbiamo Stefano Dubini, dirigente sempre del Bareggio, ciao Buongiorno E il bomber, nonché capitano della squadra femminile, Elisabeth Ebali, ciao Ciao a tutti Allora eccoci, parliamo di calcio femminile, parliamo di calcio non professionistico Anche in Serie A, anche in Nazionale, il calcio femminile non è ancora professionistico Questo crea grossi problemi al movimento che stenta a diventare importante come succede invece da altre parti I risultati delle nazionali sono lì a dimostrarlo Le squadre del Nord Europa, le squadre americane, viaggiano e giocano tanto e bene In Italia stentiamo ancora un po' perché forse, in questa puntata ne parleremo Ci sono davvero troppi luoghi comuni da sfatare, li sfateremo insieme Allora io subito voce all'allenatore della squadra Ciao Matteo Allora come nasce l'idea, allora il Bareggio ha una squadra, è una società storica Addirittura del 1928 L'anno scorso nasce questa idea magnifica di dire ma perché non facciamo il calcio femminile? Come nasce? Nasce proprio così, il direttore sportivo mi interpella, mi propone questa cosa Io arrivo dal calcio femminile a 7 e si propone questa avventura, noi accettiamo la sfida Dopo due o tre mesi di battaglie per cercare ragazze dal niente Nel senso che un po' di passaparola a queste cose qua e siamo riusciti a iscrivere la squadra in Serie D Quindi è stata davvero una rivoluzione Allora volevo invece chiedere a Stefano, Stefano tu sei un dirigente della squadra Allora parliamo di questo, del Bareggio Bareggio, bianco azzurro, colori sociali Bareggio per chi non lo sapesse, ovviamente qua a Milano lo sanno abbastanza tutti E nella parte ovest di Milano, quindi dopo Cornaredo, dopo il settimo milanese C'è Bareggio dove c'è una grande squadra di calcio femminile Prima in classifica ma poi ne parleremo col capitano E come nasce, innanzitutto quanti atleti avete come Bareggio? Allora come società Bareggio gli atleti siamo tra i 150 e i 200 che si distribuiscono tra le giovanili, i pulcini e poi abbiamo anche la prima squadra in promozione E abbiamo queste 26 atlete di serie di femminile E niente, come diceva il mister è nata l'anno scorso questa avventura Abbiamo raccolto un buon numero di ragazze E poi altre anche quest'anno si sono aggiunte Che hanno accettato il nostro progetto sia all'inizio di genere dell'anno scorso sia nel mercato, chiamiamolo così Di giugno e adesso puntiamo continuamente a crescere e si sta iniziando a parlare magari anche di creare una squadra juniores giovanile Per permettere a sempre più ragazze di unirsi a noi Già progetti per il futuro Poi parlando con le altre società in tante soprattutto nella preagonistica Proprio nelle prime categorie, nelle parti più piccole C'è la possibilità che le ragazze giochino insieme ai ragazzi Allora diamo la voce al capitano della squadra Elisabeth, tu quando hai iniziato hai iniziato così Cioè hai iniziato a giocare in una squadra maschile da bambina? Sì, io tra l'altro ho iniziato proprio da Bareggio Da Bareggio? Mio fratello giocava a Bareggio, io vedevo lui Ho detto mi piace il calcio, voglio iniziare Poi mi sono dovuta allontanare, non per scelta mia Ma perché quando si cresce, no dai fa un altro sport Quindi ho smesso di giocare, ho fatto atletica Poi sono tornata a Bareggio Quando hai scoperto che c'era Bareggio la squadra femminile? Sì, esatto, ho visto il mister e sono andata Ma allora quando si gioca da bambini nelle categorie con i maschietti? Le ragazze di solito sono di un anno superiore, giusto? No, in realtà io giocavo con bambini della mia età Perché eri forte, vabbè, quel caso particolare perché è forte Mamme a casa, se avete bambini che vogliono giocare a calcio Non vi preoccupate, solo se sono forti come la nostra Elizabeth Vanno a giocare con i pari età Altrimenti le ragazze giocano con i ragazzini di un anno in meno Si fanno meno male Ma è vero che il calcio femminile è più tecnico di quello maschile? Cioè tu riesci a palleggiare a lungo a lungo a lungo come il tuo allenatore? No, il mister è insuperabile in quello No, io purtroppo no Ma lo vedi come un calcio tecnico anche quando vedi le partite a casa? Sicuramente più si alza il livello, la tecnica aumenta Io ho iniziato tardi a vedere il calcio femminile a livelli alti E devo dire che sono rimasta anche colpita A mio fratello idem me l'ho portato e anche lui ci è rimasto Quindi si Allora Matteo, parliamo di tifosi Hai iniziato questa nuova avventura Prima allenavi i calcio 7 Dopo ho finito la tua carriera calcistica Adesso che fai l'allenatore di questa squadra femminile? Quanta gente viene a vedervi? Voi siete una serie di giusto? Si, si L'entry level del calcio femminile Si, no, devo dire che quando giochiamo nelle partite casalinghe Il pubblico ce n'è, diciamo Finanzati? Finanzati, fidanzate C'è un po' di tutto giustamente E quindi malenti, genitori E quindi poi ci sono anche le squadre avversarie Quindi voglio dire sono seguite anche quelle avversarie A parità di livello c'è più seguito nel femminile che nel maschile? Ma devo dire che se noi paragoniamo la nostra prima squadra in promozione Siamo lì ecco come pubblico È un pubblico che va dai peso Bene, l'ultimo match, quel big match che abbiamo fatto contro il Tabiago Nel giorno di ritorno che abbiamo vinto E c'erano una sessantina, settantina di persone Quindi non male Si paga il biglietto? Ci paga 3 euro 3 euro, ok Una minima quota Ma la farò anche tutti anche per i bambini Alla fine le società non professionistiche Entrate da qualche parte per arrotondare, per mettere a posto i conti Si fa così Allora volevo proprio parlare con Stefano Stefano, quando voi e gli altri dirigenti avete scoperto che c'era questa idea folle di fare una folle Quest'idea innovativa di fare una squadra femminile Che discussioni ci sono state in società? C'era qualcuno un po' bene a retrogrado Le hai detto no, le ragazze non possono giocare a calcio? No, fortunatamente siamo stati prima di tutto isperati dalla scelta Che è stata sia del direttore sportivo che del presidente E quindi più o meno il direttivo ha deciso all'unanimità Poi siamo stati anche molto fortunati di trovare uno staff che è stato molto compatto Molto anche altruista nel portare avanti questo progetto E dobbiamo ringraziare in primis loro per il lavoro che svolgono tutti i giorni Che rendono possibile questo progetto Quindi dal mister, i preparatori, il nostro secondo allenatore mental coach Quindi è una presenza importante che ci ha dato una grande mano Quindi avete anche un mental coach? È un amico, il mio amico che mi ha seguito in questo progetto Abbiamo iniziato a lavorare insieme quando eravamo ancora nella squadra 7 E sì, lui dà una grande mano su tutto questo profilo sicuramente Poi abbiamo, come giustamente diceva Stefano Abbiamo Fabio che è il preparatore atletico della squadra Anche lui ci ha seguito dall'anno scorso Poi c'è Ivan Ivano per la precisione, allenatore dei portieri Quindi lo staff Poi c'è Stefano che fa la parte, diciamo, quella faticosa Perché non è semplice comunque occuparsi della parte burocratica Comunicazione e queste cose E quindi siamo formati, siamo un bello staff I risultati arrivano anche per queste cose sicuramente I campi sono in erba, in terra o anche in sintetico? Ma un 50 e 50 Troviamo diversi campi sintetici Il nostro è naturale Un campo abbastanza lattato Quindi classico verde sulle fasce, marrone al centro Che comincia esatto, esattamente Quello d'allenamento è meglio che non ne parliamo L'allenamento tende tutto il baroncino come quasi tutti Beh, d'altronde tante squadre, tanti giocatori I campi sono così Molti mettono i campi in sintetico proprio per quello Perché alla fine hai il terreno sempre perfetto Anche quando hai tante categorie che si allenano Il campo non va così tanto in stress Allora, parliamo di solgoni Che è una cosa che facciamo spesso qua quando si parla di bambini Allora il genitore ha il bambino che vuole giocare a calcio Lo porta in una società più vicina O quella del compagno di classe E poi ha dei costi ovviamente Uno si scrive a calcio come si scrive in palestra Come si scrive a qualsiasi passatempo In questo caso sport E paga una quota Parliamo del calcio femminile Mia figlia vuole giocare a calcio Io non ho una figlia Però se volessi giocare a calcio La farei tranquillamente giocare a calcio E le direi Va bene, andiamo in questa società Vediamo quanto vogliono Quanto è la quota di iscrizione? Allora, noi da quest'anno La quota di iscrizione è zero È zero addirittura? Addirittura sì E anche i kit sono completamente coperti Perché siamo riusciti Proprio con questo intendevo l'altruismo dello staff A trovare sponsor Abbiamo fatto un progetto di un calendario Che ci ha permesso di raccogliere sponsor Tra anche piccole aziende E ci ha permesso di coprire le spese di questa stagione E anche lo staff ha contribuito In varie percentuali Alla finanziamento di questa avventura Di quest'anno Quindi le ragazze Al netto di quello che è stato invece il primo anno Che abbiamo fatto una piccola quota Il secondo anno è completamente zero Questa è davvero un'ottima notizia È quasi una mosca bianca questa cosa Io te lo dico per le varie categorie Anche per i vari sport Se riuscite a fare questa cosa Vuol dire che siete davvero un'ottima società E ben organizzata per trovare anche gli sponsor Ma parliamo di cose più interessanti Allora ci sono tantissimi luoghi comuni Riguardanti il calcio femminile Allora il microfono va sicuramente al nostro capitano Che voi dovete sapere Se per caso prossimamente andate sul capo ribareggio A vederla giocare Non la vedrete giocare Perché sarà in tribuna Perché i capitani quando vengono buttati fuori Peccano la doppia squalifica In quanto si è capitani E allora qual è il ruolo del capitano Così glielo dice il tuo mister Non fare quello che ho fatto io per esempio No che cosa hai fatto Raccontiamolo a casa Praticamente è successo che due partite fa Finita la partita Io ero felicissima di aver pareggiato E ho sentito un commento razzista Da parte di un'avversaria E non sono riuscita a mantenere il controllo Quindi ho avuto una piccola reazione Che è stata punita doppiamente In quanto appunto capitano Quindi tafferugli a fine partita Il calcio femminile Ragazzi a casa Il calcio femminile è interessante Ci sono anche i tafferugli a fine partita Quindi su questo ecco Un luogo comune Il calcio femminile Non è un calcio per stighette Stighette si può dire Perché in questo caso L'accezione è chiaramente simpatica Continuiamo ad andare avanti Con i luoghi comuni Allora l'altro luogo comune è Se mia figlia giocasse a calcio Finirebbe per avere le gambe ad arco Belle storte Allora giocare a calcio Davvero le gambe diventano storte? Guarda Per questa cosa C'è una mia compagna di squadra Che dice che Ogni volta che andiamo in giro Vedo una persona che ha le gambe storte In questo caso ragazze E lei è fissata Convinta che giochi a calcio Quindi per lei è una convinzione Io non sono così convinta Avete fatto anche il calendario Foto di squadra Quante hanno le gambe storte? Ma siamo tutte Ci sono solo facce in quelle foto Ah no non è vero Ma io non ci faccio caso Non ci fai caso Non è importante Da osservatori esterni Voi cosa potete dirvi? Vengono come dei calciatori Secondo me Non Ci sono anche quelle Che hanno le gambe Che sono più forti Più forti La gamba storta Aiuta a giocare a calcio meglio? No Secondo me No Secondo me Poi si forma la gamba storta Purtroppo E' un luogo Io sono testimone di queste Voglio dire Chi ha le gambe ad atti Se c'è troppo calcio Rischia i tunnel Esatto Più sali di categoria Più si allenano Più si stortano le gambe Ed è più facile Per giocatori tecnici Ma che savi come Pirlo Fare tunnel Fare tunnel Sa vici e vici su questa cosa Era felice Fiero e felice Andiamo avanti Con i luoghi comuni Sta scappando dal microfono Ma non può mica il nostro capitano Allora Altro luogo comune E questo attira molti degli spettatori che vengono Ma a fine partita C'è lo scambio delle magliette? Per questo L'unico scambio di maglietta A cui ho assistito E' stato proprio Nella partita L'anno scorso Una ragazza Mi ha reagito Questa volta Non sono stata io E mi ha Si tolta la maglietta Mi ha detto Se vuoi te la regalo Quindi l'unico scambio di magliette Che ho visto È stato questo A fine partita di solito no Niente Scambio di magliette Anche perché le divise Sono quelle Dovete tenere tutta la stagione E non c'è La seconda maglietta Da rimettere La partita dopo Quindi no In questo caso Non c'è Però Il capitano Deve essere Uomo 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 in senso calcistico Di molto temperamento In questo caso Al temperamento Matteo Parliamo un po' più di calcio Adesso Una cosa un po' più tecnica Tu hai cercato Tanto calcio maschile Adesso hai fatto calcio femminile A sette E ora undici Cambia così tanto? Sì cambia 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 tanto Perché Cambia Cambia l'atteggiamento Che un allenatore Deve avere Nei confronti Delle ragazze In questo caso Perché Comunque Hanno un atteggiamento Molto più Osservano molto E ti senti Anche molto Non dico sotto esame Però Ti senti comunque Partecipe Hanno una dedizione Che credo che Nei ragazzi Non hanno I ragazzi Non hanno Fino a questo A quel punto Se gioca calcio Lo fa veramente Perché lo vuol fare Contro luoghi comuni Si percepisce Una passione Cosa che non è Che non c'è Nel maschile Ma Devo dire Che questa cosa Si nota E poi Hanno Non so La supponenza Nel calcio femminile È cosa molto rara Cosa che invece In certe categorie Del calcio maschile È facile Dover Come dire Gestire Ecco Diciamo così Ma fallacci Simulazioni No ci sono Il peggio del calcio C'è Ci sono Meno simulazioni Però i fallacci Vengono fuori Anche lì Come giustamente Simulazioni Sono secondo me Ecco anche qua Mi sembra che sia Se dobbiamo Usare un termine È forse Un calcio Un po' più onesto Tra virgolette Nel senso che Probabilmente Anche per una questione Di attitudine Difficilmente Una ragazza simula Difficilmente Poi Sono i casi Stiamo parlando Di calcio Sì Stiamo parlando Di calcio Strane Stiamo parlando Di calcio femminile Calcio non professionistico E in questo caso Non simulano Le ragazze E c'è il positivo Ma Prima parlavamo Anche di magliette Quindi Tu sei Attaccante Giusto Sì Sono l'attaccante Capo cannoniero Del girone Per adesso Sì E in questo caso Le avversarie Non si affezionano Alla maglietta E cacci l'angolo Cioè Proprio tipo Sì 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 La maglietta La vuoi davvero Esatto Esatto Per adesso Non sei ancora strappata Però ci sono Molti avversari Che si affezionano Al mio numero 9 Ma Tu sei un'attaccante Di quelli che picchia No Anzi Mi dicono che picchio poco Picchio poco E questo La parola Molto poco Ma Come si sceglie un capitano? Beh È stata un bella Anche questa Fa parte del progetto Della strada Che abbiamo percorso Insieme a In questo caso Insieme a Oscar Che è il nostro Mental Coach Il mio Il mio collaboratore Il mio secondo Abbiamo È stato individuato L'anno scorso Tramite Si può chiamare Sondaggio Però In sé È stato proprio Un Io credo che Il capitano Deba essere Un leader E debba emergere Nei comportamenti E quindi Anche tecnicamente Anche tecnicamente Però Anche a livello personale Credo che Venga individuato Dalle persone In questo caso Dalle ragazze E proprio perché Perché c'è un comportamento Nel gruppo Dove C'è proprio Si sente Che emerge Quello spirito Quella Quell'immagine Del giusto capitano Ecco Nel nostro caso È stato proprio Voluto E Abbiamo proprio Fatto questo percorso Di individuare Parlando singolarmente Con le ragazze E Trovando poi Da fine Come si dice La quadra Di chi poteva essere Elisabeth In questo caso Credo che sia Proprio Per quanto ci riguarda Oltre ad essere il capitano È anche un leader In campo E anche fuori Quindi Credo che sia importantissimo Che è la cosa più importante Quando sono arrivate le ragazze Hai iniziato a farle giocare Vedere Va bene Allora Con queste ragazze Posso giocare con questo modulo Oppure tu sei Un oltransista Per cui hai un'idea Tua Del modulo E le ragazze Si devono adeguare Io sono per Non ho un principio di calcio Proprio così definito Sicuramente ho delle mie idee Quello sicuramente Che sto cercando di fare Con loro E dall'anno scorso Che il nostro percorso È proseguito così È di cercare di giocare Il più possibile la palla Nel limite del possibile Ma Considerando anche Quello che poi abbiamo Nel senso che Un generatore deve sempre Deve essere bravo A analizzare il materiale Che hai in mano E da lì partire Con sicuramente Uno schema di gioco Un modulo Un sistema di gioco Ma poi Deve adeguarsi anche L'allenatore Allora Dimmi se sbaglio Nel mio immaginario Quando uno deve decidere Un modulo Uno schema D'attacco Per una squadra femminile Lo fa in maniera Completamente diversa Rispetto a quella maschile Il calcio femminile Io me lo immagino Più tecnico Ma sicuramente E meno fisico Per cui L'idea di avere La fascia L'uomo sulla fascia Che continua a mettere Cross in mezzo Per il gioco aereo Non mi sembra così Funzionale Rispetto a un gioco a terra Diciamo che Il discorso tecnico Poi magari Sbaglio io Diciamo che Non è proprio Calcio più tecnico Perché comunque Ci sono anche Marcature Abbastanza Abbastanza Atrisianti Nel senso che Ci sono le ragazze Comunque Si attaccano Alla maglietta Come si dice La vogliono Alla maglietta Attaccata Diciamo che È un calcio Ancora un po' Meno Meno tattico Meno tattico Meno tattico È più Più legato All'istinto Più legato Magari Anche perché Comunque Le ragazze Hanno Molta Molta ansia Di prestazione È una cosa È la prerogativa Sì Sicuramente Sicuramente Nella preparazione Della partita La sentono molto Da casa lo vedono Ci sta guardando Estremi ampi gesti No no Che viene subito Degradata E non solo Per la squadifica Di quattro giornate Continuiamo Andiamo avanti Devo dire che Noi abbiamo Delle armi Come squadra Abbiamo Abbiamo un attacco Che è un attacco Di quelli potenti Perché oltre Alla nostra Elisabeth Che ha fatto 23 gol Abbiamo anche La Gaia Che è un altro Bomber Che ne ha fatti 17 Quindi stiamo parlando Di Devo dire che Poi abbiamo Abbiamo le veterane Che danno una mano Dietro Che supportano Questo attacco Che insomma Abbiamo la Pamela La Cristina Che sono due Che hanno un'esperienza Io le chiamo per la Metto l'articolo davanti Da buon milanese Poi nella vostra categoria Avete l'obbligo Di far giocare Delle ragazze giovani Come Nelle categorie inferiori C'è l'obbligo Di Fuori quota Voi ce l'avete? No Non c'è Quindi l'età media Della vostra squadra Com'è? Ma l'età media Più o meno Siamo intorno ai 24 25 anni Perché noi abbiamo La ragazza più giovane Che è del 2001 E poi abbiamo La veterana Che non si dice L'età Che non si dice Assolutamente Nell'età E nelle Come? Non si dice Non si dice È la veterana Quindi in media 24-24 anni No no Ci sta benissimo Stefano Qual è Da dirigente La difficoltà maggiore Che hai avuto Con una squadra femminile Rispetto alle altre squadre? Ma Non ho difficoltà Rispetto alle altre squadre Perché è la mia prima ed unica esperienza Quindi Inizia così Vengo da due allenamenti Di calcio Fatte sei anni Niente E poi sono entrato qua Nel mondo del calcio femminile Se c'è una difficoltà C'è la difficoltà Nella parte amministrativa Che c'è oggettivamente Per tutti i dirigenti La mole Di lavoro Di conoscenza Che bisogna avere Per capire Interpretare le norme Curare gli aspetti Magari delle squalifiche Ma assolutamente Le ragazze In quanto disponibilità Mi stanno aiutando molto Anche in questo lavoro E per fortuna Già noi al 24 di agosto Avevamo chiuso tutti i tesseramenti Chiuso tutte le pratiche La squadra era già pronta Per iniziare il lavoro Di preparazione estiva Che difficoltà ci sono Di tesseramento Se viene una ragazza straniera? Allora Anche questa è un'esperienza Che ancora non abbiamo Non abbiamo fatto Ma ho potuto assistere Con anche dei ragazzi Della prima squadra Della Juniores E bisogna ricordare Che noi femminili Siamo lega nazionale Direttanti Quindi siamo equiparati A una promozione Un'eccellenza Il grosso dei problemi Sono di solito Il controllo Con la federazione estera Se il ragazzo Ha già giocato O la ragazza In questo caso Ha già giocato Perché c'è il divieto Di doppio tesseramento Presso le due federazioni Perfetto E quindi controlli incrociati E tanta burocrazia Prima di avere Il giocatore in campo Esattamente Il problema di questi controlli È che è impossibile Anche solo far iniziare L'allenamento al giocatore Quindi si rischia Di avere magari Un giocatore Che si presenta Ad agosto A settembre Pronto per un campionato Ed è obbligato A rimanere bloccato Per magari due Tre mesi Per via di tutti Pratiche burocratiche Che sono a tutela Della squadra Della federazione E del giocatore stesso Che però Sono molto impegnative E sono molto lente Allora la cosa strana È che cambiano gli sport Le problematiche Sono le stesse Noi giochiamo a palla La mia squadra Gioca a pallavolo Io gioca a pallavolo E due anni fa Abbiamo avuto un ragazzo Che arrivava dalla Polonia E era già tesserato in Polonia Per farlo giocare Per metà campionato Metà campionato Perché il tesserino Non arrivava Dovevano rispondere Della Polonia Dovrebbero arrivare in Italia A Roma Ovviamente E mica a Milano E burocrazia Mella lunga Per cui È più difficile E ti tocca stare Ti tocca seguire Tutte queste cose Queste cose burocratiche Allora Abbiamo parlato Del gioco Il gioco Quindi un po' diverso Meno fisico Anche se c'è Fisicità È vero che è più lento Di quello maschile? Sì Sì Se lo paragoniamo Alle categorie Questi dilettantistiche È un po' più lento Come diceva prima Elisabeth Più si sale Di categoria Anche nel femminile Come del resto Anche nel maschile E più chiaramente La tecnica aumenta E aumenta la qualità Quindi È normale I soggetti Sono magari un po' più preparate Hanno anche più tempo Per allenarsi Perché poi cambiano Anche gli impegni Gli allenamenti È normale È il percorso Che dovrebbe Che fare Una squadra O comunque Una giocatrice Poi avete fatto Amichevoli contro squadre maschile Magari juniors No Amichevoli Non li abbiamo mai fatti Perché credo Che non siano Dal mio punto di vista Non sono molto utili Come non ritengo Tantissimo utili Amichevoli con squadre Di categoria Troppo superiore Perché il divario Tecnico Nel femminile Non è proporzionato Come può essere Il maschile Che sono molte più categorie Dalla serie D Alla serie B In questo caso Passando da una categoria In mezzo Che è la C C'è un abisso Un abisso Un abisso Quattro categorie Nel calcio femminile E chissà che Non aumentino Con l'aumentare Della Eh L'aumentare delle giocatrici Delle squadre Che fanno calcio femminile Ci fermiamo un attimo Per una pausa Ma torniamo subito Qui con noi Primi calci Ed eccoci tornati A Primi calci La trasmissione Di Radio Milan Inter Dedicata al calcio Giovenile Non professionistico Oggi in studio Abbiamo il bareggio Calcio femminile Bareggio San Martino Questo il nome completo Stiamo parlando Di calcio Di calcio femminile E stiamo sfatando Tantissimi luoghi comuni Eh Beh Vi potete riascoltare Ovviamente in streaming La trasmissione Non vi dico Per chi si è collegato Adesso Quali sono i luoghi comuni Non vi dico Cosa succede Nello spogliatoio Non vi dico Quando c'è lo scambio Delle magliette Perché nulla è vero Però no Una domanda Io sullo spogliatoio Allora A pallavolo Per esempio Ci sono regole Spogliatoio Uno arriva tardi Agli allenamenti Paga le paste Uno batte Sottorete Paga le paste Uno prende un cartellino Paga le paste Tu hai preso Un bel cartellino rosso Da capitano Che cosa farai Alle tue compagnie Di squadra Come regalo Per farti perdonare Questa assenza Di quattro giorni Porterò le paste A questo punto Ah quindi Mutui questa Attenzione Pallavolo E poi Già che è il microfono È una domanda Dal nostro regista Lorenzo Che ovviamente fuori onda Anche lui Ha le curiosità Come me Proprio super curioso Allora mi chiedeva Ma cosa spinge Una ragazza A giocare a calcio Nel senso Maldiamente Un ragazzo Gioca a calcio Perché Un compagno di classe Che gioca a calcio All'amico Che gioca a calcio Il fratello Che gioca a calcio Mentalmente È più logico Che un bambino Vada a giocare a calcio Per le ragazze C'è questo stesso percorso Però magari Verso altri sport Principalmente Per lavoro O basket Io sto parlando Di grandi numeri Ovviamente Quindi in piccoli numeri Uno va anche a giocare a freccette Sei contento O ben contento Per lui E in Inghilterra Fa di brutto Le freccette Per cui Chiunque si deve trasferire In Inghilterra Va a giocare a freccette Ma Che cosa ti spinge Cosa ti ha spinto A giocare a calcio E dire Io diventerò A giocare a freccette Ma per quanto mi riguarda Come ho detto prima È proprio perché Ho visto mio fratello Cioè Vedevo le sue partite Ho visto che mi piaceva Comunque ho visto Che ero abbastanza capace E allora mi sono appassionata così Ma perché giocava al parco Come tutti Sì sì Io andavo al parchetto Con i miei amici Esatto Però come discorso generale Credo che Come in tutti gli sport Si è una passione Cioè se io seguo il calcio In televisione Vuol dire che mi piace Poi se ho la possibilità Di giocarci Ci gioco Come se io seguissi La palla a volo Probabilmente avrei la passione Per la palla a volo E proverai a giocarci Poi magari non è così Per me è stato diverso Però prova a mettermi Nell'ottica Del mio compagno Ma in spogliatoio Avete qualche Cesto scaramantico Prima di iniziare la partita Sì Prima delle partite Abbiamo un urlo Urlo? Sì Che dovrei Non lo posso dire Perché È censurato Cioè rimane nel nostro spogliatoio Esatto Quindi Però ce l'abbiamo Il vostro spogliatoio Come la spiega Che succede nel vostro spogliatoio Rimane nel vostro spogliatoio E cioè C'è positivo Quindi avete un Ok Sei tu Capogruppo Sì Mi prendono in giro Perché quando faccio questo urlo Mi viene la voce acuta Io ho la voce abbastanza bassa E quindi Mi faccio aiutare Da due compagni Adesso Per dare sostegno alla mia voce Ecco Un'altra Un'altra curiosità che ho Sempre per quanto riguarda lo spogliatoio In tutte le categorie In tutti Direi bambini Ma anche degli adulti Alla fine Dirigenti E allenatori Entrano allo spogliatoio Per fare la ramanzina Questo Quell'altro Spiegare Le cose prima della partita Voi come fate? Cioè Avete fuori il cartellino Non disturbare Quando Siete tutte vestite pronte Lo tirate via E uno per entrare Quando siamo tutte pronte Faccio un channel mister Entra e ci fa le sue spiegazioni Prima non entra nessuno Prima non entra nessuno Ci sono appassionati di calcio Che vi puntano Se è proprio così si può dire Perché vi vedono giocatrici? Magari Sì Parlo per me È capitato che Abbiano scritto su Facebook Vengo a vedere la prossima partita Come sei forte Queste cose qua Però Tu le fai da Le tieni concentrate Eh me direi Non che mi fanno tipo L'attaccante dell'Inter Che è molto social Appunto Appunto Allora Continiamo Ah no Questa è un'altra curiosità Che mi interessa molto Per esempio Parlare Della rappresentativa lombarda Allora Rappresentativa lombarda Nel calcio femminile Non ne so nulla E a casa probabilmente Anche gli altri Non ne sanno molto Quindi Un dirigente che ha studiato pronto Ci spiegherà tutto Che cos'è Di cosa si tratta Allora L'anno scorso Che è stato il primo anno In cui noi abbiamo partecipato Era Era legata alle under 94 Come annata d'età Ed è praticamente Riunisce Le migliori giovani Della serie C Della serie D femminile Delle varie regioni L'anno scorso È stata convocata Elisabeth Quest'anno È stata convocata Giulia Losi Il nostro portiere Ed è una bella soddisfazione Per noi come società Perché Quest'anno Noi siamo l'unica squadra Della serie D Ad aver avuto una convocazione E a memoria Credo anche l'anno scorso Però non lo dico con certezza Perché di solito Buona parte Delle giovani Della rappresentativa Vengono dalla serie C Segno anche che Il livello anche di questo campionato Pur essendo una Categoria inferiore Si sta impolzando E che si inizia finalmente A lavorare bene Anche con le ragazze più giovani Per noi in particolare Poi è una bella soddisfazione Proprio perché Due anni su due Abbiamo centrato l'obiettivo Adesso lavoriamo Per le under 96 Dell'anno prossimo Per fare il tris Bellissimo Ma Elisabetta Sei stata in questa Rappresentativa lombarda E come funziona? C'è una sessione di allenamenti Con gli allenamenti della federazione? Si è funzionato così Io ho fatto due amichevoli Prima di partire Per il Trentino Mi ha fatto due amichevoli Contro squadre di serie superiori Poi hanno formato Il gruppo definitivo Siamo partiti Abbiamo fatto cinque giorni Servite Riverite Mi sono sentita Una vip In quei giorni E Una sessione di calcio Sì sì Però Sono rimasta colpita Perché Avevamo tutto a disposizione E quindi ho pensato Chissà In Serie A Come le seguono Come le curano Mi sono sentita veramente Ma perché Questo è Berlusconi Che lo faceva già All'epoca del Milan Non è vero Il giocatore Non deve pensare A null'altro Che a non al campo Il resto ci pensa A tutta la società In questo caso La federazione Per cui ci sta Quindi Hai reso meglio Essendo coccolata? Ero veramente concentrata Sono contenta Di come ho giocato Ero carichissima Anche le partite Poi ovvio avevo L'adrenalina Quindi volevo far bene Però sono soddisfatta Sono state delle belle giornate E si impara qualcosa Di diverso Beh sicuramente Mettendo insieme Giocatrici Io ho giocato Con molti ragazzi Di Serie C Quindi che Giocavano Veramente Veramente bene Giocavano in un modo diverso Da come giocavo io E sono stata quasi Non costretta Comunque portata A giocare In un modo Bello Cioè comunque Che dici Ho giocato a calcio No è vero Vero Va bene Lasciamo stare La faccia che ha fatto In Instagram Quando ha detto Finalmente giochiamo a calcio Da Carlo ci hanno visto Quelli che si guardano Guardando i streaming Gli altri Sento magari È la mia predica Quindi Voglio dire Te la sei scelta Te come capitano Per cui Te la vecchi Anche quando ti manda Le frecciatine E Altra cosa interessante Allora Abbiamo sentito Ci sono giocatrici Giovani Giocatrici forti E come Mercato vuole Per qualsiasi Per qualsiasi squadra Per qualsiasi categoria C'è il calcio mercato E allora Per esempio C'è la possibilità Che arrivi Un'altra società Pur essendo Calcio Dilettaggistico Calcio Comportizionistico E dica Ma sai che c'è Io vorrei Il bomber Un fiumantino Lì davanti Sì assolutamente In questo caso Cosa succede In questo caso La trattativa Come al solito Per tutte le leghe Dilettanti C'è prima La trattativa Per il cartellino Con la società O con chi detiene Il cartellino E poi chiaramente Deve esserci La convinzione Della ragazza O del ragazzo Di Abrodare Nella Nuova società Nel nostro caso Molto spesso Le ragazze Vengono a fine anno Svincolate Se già si tratta Con la società Si dice Siamo interessati A questa giocatrice Generalmente Le società Di calcio femminile Non fanno Un eccessivo Ostruzionismo Sulla vendita Dei cartellini Poi purtroppo Qualche caso Sporadico Esiste ancora Specialmente Nella speranza Che col passaggio A calcio Professionistico Magari le valutazioni Si impegnino Però Ai nostri livelli Non c'è ancora Però il calcio Professionistico Esattamente Perché Ogni anno Se ne parla E quindi ogni anno C'è qualcuno Che spera Di poter Anche magari Volgarmente Lucrare Su quello Che è Comunque Una ragazza Che vuole giocare Perché ai nostri livelli Non si pensa più Al livello professionistico Si pensa semplicemente A voler giocare Con le amiche Con un buon grado Di competitività Ma è una passione Il tesseramento Il tessere delle ragazze Sono come quelle Dei maschietti Cioè è vero Quando sei piccoli Dura un anno Poi a una certa età Firmi E fine 25 Si è bloccato Esattamente Lo stesso Assolutamente Lo stesso In questo caso Voi come avete fatto A fare la squadra Ecco Tu mi hai letto Avete fatto Cercato Amici di amici Quanto altro Avete preso anche Giocatrici Da altre squadre Che magari non giocavano Quest'anno Che abbiamo alzato Il livello Perché Dopo un campionato Diciamo di rodaggio L'anno scorso Dalla metà in giù La classifica Che abbiamo ottenuto L'anno scorso Quest'anno Abbiamo Noi da giugno Una volta formato Lo staff Con Stefano Che è arrivato Anche lui Quest'anno E Altri due Diciamo Innesti Abbiamo Lavorato Nel periodo estivo Per Incrementare Cioè Aumentare La qualità Della rosa Avete fatto Anche provini Sì Abbiamo fatto Anche provini Abbiamo Allora Abbiamo attinto Molto Sul calcio A7 Per quanto Una percentuale Di ragazze nuove Arrivano dal calcio A7 Probabilmente Alcune Con esperienze Anche a 11 Ma in passato Però Ragazze valide Che Appena Aveva stato Proposto il progetto E chiaramente Hanno Hanno Diciamo Devuta Proprio Questa 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 Voglia Di provarci Con il calcio A11 Che Come dicevamo È un'altra cosa È tutta un'altra cosa Adesso Senza nulla Togliere il calcio A7 Però Il calcio A11 È il calcio Lo dicevamo Fuori onda Lo dicevamo Fuori onda Esattamente Cambia molto Cioè Chi si Crea Come calciatore A7 Che difficoltà Trova Alguna volta Passato A calcio A11 E poi dipende Molto dal ruolo Dipende Dalla Diciamo Dall'attitudine Che ha la ragazza E da ruolo Però sicuramente Ecco Sulla parte difensiva L'anno scorso Abbiamo avuto Delle difficoltà Enormi Perché erano tutte Ragazze Che arrivavano Dal 7 Quindi niente La doppia Niente In croce Niente Non c'è niente Nel 7 Di questa cosa C'è una marcatura Sulla punta Che chiaramente Deve Mentre Per chiudere Il discorso Della rosa Composta di quest'anno Abbiamo avuto Anche L'arrivo Di Gaia Che arriva Dalla serie C Chiara Anche lei Arriva dalla serie C E quindi L'anno scorso A metà anno Sono arrivate Nicole Che arriva Anche lei Dalla serie C Quindi Tutte queste componenti Hanno fatto sì Avete fatto raffinare Così tante giocatrici Di una categoria superiore Ma devo dire che Più le cose vanno bene Più la voce Diciamo sì E comincia a girare No? Che c'è un bel gruppo C'è una bella squadra C'è C'è uno staff organizzato E più vengono A noi Ci scrivono tante ragazze A Stefano Scrivono Sulla pagina Facebook O comunque Con il numero di tele Eh sono interessate A provare una nuova esperienza In una squadra nuova Magari anche Ragazze che magari Sono anche ferme Da un anno Per vari motivi Per studi Queste cose qua Perché non è preso A differenza magari dal maschile Non c'è questo accanime Non essendoci Anche soldi Tra virgolette Come può succedere Nel caso Io ho giocato comunque Promozioni Eccellenza Quindi so Anche che sono i soldini Da prendere No? Sì E in questo caso Loro giocano proprio Totalmente per passione Non c'è proprio In bordo È per quello che le si svincola Se vogliono andare via Sì Anche questo E poi probabilmente Guardano di più Il lato emotivo Il lato del gruppo Il lato di Di voler star bene No? Eh una cosa Un'altra ecco Per esempio Io so della pallavolo Che è così Magari che possiamo Anche nel calcio Allora la differenza Tra una squadra maschile E una squadra femminile Di pallavolo Di uno spogliatoio È che le ragazze Non te ne fanno Passare una lice Se i due litigano Basta Nemiche per la vita Tra noi ragazzi Se c'è uno screzzo Qualche parola Vola Qualche spintarella Anche Ma il giorno dopo Ti è dimenticato Tutto Se poi allora Le ragazze Se le legano al dito E poi come allenatore Devi stare proprio attento A queste dinamiche Di spogliatoio A gruppi e sotto gruppi Eh Bisogna stare attenti Sì Il mental coach Il mental coach Io mi appoglio Il mental coach Si pensa a lui Dico Prendi tu in mano La situazione No Comunque sì Bisogna stare un po' più Attenti Cioè è diverso Cioè La si sente Sì 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 È proprio così Come hai detto Elisabetta Quando succede una cosa Del genere Spogliatoio Che le due ragazze Litigano E mai più Farando pace Finché morte Non le separi In quel caso Tu come fai A mediare Ma io Per quanto non sembri Sono una persona pacata E quindi cerco Cioè penso che il ruolo Del capitano Sia quello Non di essere Amica di tutti Ma cercare di capire tutti Quindi di cercare Di capire qual è L'esigenza di una compagna Quella dell'altra Poi fare una sorta Di essere l'intermediario Poi con l'eneratore E devo dire che In una squadra femminile Le dinamiche Che si creano Sono tantissime Sono difficili Da tenere sotto controllo Quindi ammetto Che sia complicato Le antipatie Sono antipatie vere? Ma in realtà La nostra squadra Le antipatie Io ho giocato In una squadra In cui c'erano Tante antipatie Qua niente Confronto L'isola felice Questo è il motivo Per cui Tante ragazze Scrivono A voi su Facebook Allora Parliamo proprio di Come raggiungervi Allora voi ovviamente Siete a Vareggio Don Ovest di Milano Ma in quest'era tecnologica Io non dico più Prendete la cartina Tutto città Cercate Con la vostra mappa E andate lì Ma O accendete Google Come parlo moderno O accendete Google Andate con un bel navigatore Velocemente O addirittura Anticipate i tempi Passate i social E direttamente Vi collegate con il Vareggio Come fanno da casa A trovarvi Allora abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale Che è ACD Vareggio Femminile ACD Esatto Associazione Calcistica Che è curata da me E in co-working Con il mister E poi abbiamo Eravamo partiti addirittura Col progetto di Twitter E YouTube Ma diventa veramente Complicato Abbiamo invece Portato avanti La pagina Instagram Che ha lo stesso nome Della Della pagina Facebook Che è portata avanti Da me come supervisore Ma il lavoro sporco Il grosso del lavoro È tutto merito Di Sofia e Angela Che ci stanno dando Una grande mano E anche delle altre ragazze Che ci forniscono il materiale Tra coreografie Foto E scene Degli allenamenti Quindi siamo Non eccessivamente social Ma sicuramente Ci sta dando una mano Anche a farci conoscere Invece Se qualcuno Dovesse venire In società O a tifare Che indirizzo mette Su navigatore Allora il nostro stadio È lo stadio Magistrelli Di Bareggio In via Giacomo Matteotti 63 Il parco Arcadia Che per chi conosce le zone È una bellissima zona turistica Proprio della città di Bareggio Ma vi allenate nello stesso campo Dove giocate? No Il campo di allenamento È proprio In corrispondenza Del parco Arcadia Quindi sentiamo Di sera Quando ci alleniamo Sentiamo anche i versi Degli animali Che fanno parte Di questo parco Ma cambia Il fatto di giocare In un campo diverso Da quello Con cui ci si allena Cambia Per quanto riguarda La prestazione Dimmi No Va bene Si pensi al capitano Non so chi sta seguendo Però io mi esprimo No Allora Il nostro campo delle partite È Un campo normale Comunque ovvio Ci giocano un sacco di squadre Quindi per forza È un po' rovinato Ma che ci fai meno Esatto Quello degli allenamenti Invece È molto marroncino Con un sacco di sassi Quindi Per quello Noi sentiamo la differenza Diciamo che Molte volte Rischi di prenderti una storta E non è Un'ottima cosa Quella Mamme a casa Non vi preoccupate Sono lei preoccupata Per le storte In realtà Fare calcio E fare calcio Anche per le ragazze Non storta le gambe Non rende dei maschiacci E non c'è questo Grosso pericolo Di distorsioni Quanti distorsioni Quanti fortuna Avete avuto quest'anno Quest'anno Per fortuna Gravi nessuno L'anno scorso Due hanno fatto il crociato Il crociato Il crociato è un classico Purtroppo sì Questa è una dimostrazione Che il calcio femminile È come il calcio Ci si fa il crociato Nella stessa maniera E fa male Nella stessa maniera Nella stessa maniera Tu hai fatto I crociati No Io no 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 Io no Per fortuna No Distorsioni sì Che vado a crociati Benissimo Allora Abbiamo quasi finito Cosa volete Chi volete salutare A casa Questo è il momento Clue Io saluto Saluto tutte le mie compagne Spero di non aver detto Cose cattive Nei loro confronti No no Però se vuoi dirle No 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 Per questo guarda Prendiamo tutto il tempo Che vuoi No davvero Anzi io amo i miei compagni Davvero Ci vado molto d'accordo Sono contenta Non sto facendo la ruffiana Lo giuro Sicuramente Questo è il capitano Deve essere così Difesa totale Della squadra L'unica squadra femminile In cui non ci sono I nemicizi E vanno tutte D'amore e d'accordo Non commetti molto Allora Tempo a nostra disposizione Purtroppo è finito Io straringrazio Voi perché Finalmente abbiamo parlato Anche di calcio femminile Ridendo e sgarzando Come è giusto che sia Però abbiamo portato Una realtà Che è importante In crescita Ed è giusto Che si ascolti Anche Anche da casa Magari Chissà che qualche ragazza Non decida di Provare a giocare a calcio Magari direttamente Del breggio Dopo aver sentito Questa trasmissione Allora io ringrazio Il bareggio calcio femminile Per essere stato qui con noi Stefano Dubini Dirigente Grazie Grazie a voi Il bomber Elisabeth Elisabeth Vale Ciao e grazie E altre due giornate Di squalifica Per il capitano E il nostro allenatore Matteo Colombo Grazie a voi Buonasera a tutti Allora grazie a tutti quanti L'appuntamento Con primi calci È per la settimana prossima Dunque Stay tuned Ciao a tutti quanti Primi calci Damiani A B L'appuntamento